buongiorno di nuovo a tutti guardate stamattina vedere il sole che viene fuori dalle montagne purtroppo non sono ancora arrivato al passo dei radici mi mancano 5 chilometri 5 6 chilometri 4 ore 28 67 chilometri però volevo fare il video era bello se ero già in cima purtroppo non ce l'ho fatta tempisticamente è bello lo stesso comunque c'è freddo qua in cima ragazzi c'è molto molto freddo se vedete in allontanata lì in fondo c'è la montagna che c'è ancora nella zona d'ombra c'è ancora la nieve guardate che spettacolo e che bello via riparto che sta girando